Tornare a scuola dopo tanti anni non è un gioco da ragazzi, tranne che per i nonni anconetani, di nuovo tra i banchi di scuola per imparare l'uso della tecnologia. È il progetto lanciato dal liceo scientifico Galilei di Ancona, niente lavagna, col gessetto, solo l'IM smartphone. In cattedra gli studenti dell'istituto per fare da ciceroni ai nonni della città, utilizzo delle mail, prenotazione delle visite online, social e navigatore. È molto speciale perché impari la pazienza e conosci anche le difficoltà che spesso gli insegnanti non palesano nel loro lavoro. Soprattutto ci chiedono informazioni pratiche su applicazioni che usano tutti i giorni, quindi Whatsapp oppure Gmail, riguardo soprattutto la condivisione di foto e altri file. Quello che più mi interessava capire è quando riceviamo email e cose varie, capire da quelle che ci possono pregare. Un patto con la tecnologia per unire le generazioni in collaborazione con la sezione pensionati, delle tre sigle sindacali, coinvolti una trentina di alunni delle classi quarte e quinte, che dai banchi sono passati direttamente alla lavagna. Tre lezioni per spiegare l'utilizzo di applicazioni e dispositivi a chi spesso si affida la pazienza dei propri nipoti. Mandare messaggi, riceverli, muovermi con le mappe sul territorio. È necessario, è necessario, se no ci si sentono alfabeti.